E bentornati che lettori, come state? Spero tutto bene, sono Lola di Gele e Anna e questa è Storia dell'altra vita e ci avete chiesto in tanti di... Bisogna guardar qua, non è qua. Ci avete chiesto in tanti il video su la libreria di Anna, che è una libreria ormai, la maggior parte è libri, come dovrebbe essere, di libri è una libreria, se no è una fumetteria. Però no, una fumetteria è un'altra cosa. Ditemi qua sotto nei commenti una libreria piena di fumetti, come si chiama? Libreria Vabbè, sto di una scemezza. Vediamo che c'è Anna nella sua libreria. Da dove iniziamo Anna? Allora, qui ci sono tutti i cartonati Disney principalmente, allora qui c'è P.K. che è il mio preferito, però ne ho anche gli altri come Wizard of Miki, Area 15, DuckTales Da quando hai spesso di leggere Topolino prendiamo i cartonati, vero? Sì, perché sono più belli. Di DuckTales, però non dè un po' che non escono, forse sono finito. Non lo so in realtà, perché dopo il quinto dovrebbe esserci il sesto. Beh sì, di solito. Poi? Poi, vabbè, Phantomius o Phantomius, non ho mai capito come si dice. E poi alcuni di Paperone e Paperoni. Questo l'ho preso io. Morbius! Sì. Morbibus, come si chiama questo? Norbi. Norbi. Sì. E altre cose che ho recuperato in fratteria. Questo qua è Luca Comics. Ah, questo qua è Moftri. Sì, questo qua. Di Bugs. Quello, poi Marco ce n'ha un altro cartonato. Sì, il cartonato l'abbiamo visto ieri. Qui i quaderni non c'entrano niente. Quaderni che non c'entrano niente. Di là che c'è? Niente. Quaderni che non c'entrano niente. La fine della storia a PK. Che è? Sì, perché devo fare entrare... Ah, non sai dove metterlo. Sì. Vabbè, poi vediamo. Qui sta bene. Poi, parte di sotto, si inizia con i libri. Allora, qui ci sono tutti quelli di Percy Jackson. Che sono troppi? Uno scaffale. Che c'entra Harry Potter? Niente, però... Però? Ci sta bene. Ah, ci sta bene, va bene. Percy Jackson, che ci sta? Sono qui i primi cinque. Poi c'è il libro segreto che è un... Come si inizia Percy Jackson? Con questi. Con questi. Sono i primi cinque. I primi cinque. Poi ci sono gli altri cinque che sono... Cioè, sono i fatti avvenuti dopo il quinto. Poi ci sono le sfide di Apollo che non... Cioè, è sempre lo stesso mondo però prima. Prima? Dei prequel? Sì. Ok. Poi? Poi, i fidanzi dell'inverno. Che è da poco questo qua l'hai letto? Sì. Tipo ottobre l'ho letto. Poi questi... La casa sul mare celeste sotto la parte dei sussurri che sono lo stesso autore. E sto leggendo questo. I G. Cron. Sì. Poi c'è la piantina. E questi sono i classici tascabili che sono il canto di Natale, piccole donne, Anna dei capelli rossi e altri. Eccetera. Sì. Questi qua che genere sono? Perché questo qua è fantasy. Questo qua è fantasy. Questi distopico fantasy sempre. Poi andiamo sempre in avanti. Poi Babbo Natale è qui. Babbo Natale. Sempre presente. Chi è questa? Erbione. Ah, questa è Erbione. Piccolina. Vestita da... Dal ballo del ceppo. Qui che c'è? Qui ci sono i classici sempre. Tipo questi. Jules Verne. Sì, cartonati principalmente ho messo. Poi il Signore degli Anelli. Questi qua della National Geographic non me li ricordavo. Perché l'ho comprati ma non l'ho mai letti. Ha dieci anni. Questo è il Signore degli Anelli. Però là è mio. Sì, però lo tengo io. Perché è bello. C'è anche Ritorno al Futuro che devo leggere. Non sono mai riuscito a leggerlo. Niente di che, sinceramente. Niente di che. Poi Animali Fantastici dove trovarli. Che è lo Skimpray però del film. Andiamo di nuovo giù di un altro strato. Poi. E qui iniziano i distopici quelli belli. Allora Divergent che è la serie completa. Sì. Adesso l'ho comprato io. Sì? No. No, l'hai comprato tu? Sì. Poi Shatter Me. E vabbè sono tutti e quattro insieme. Poi Shatter Me che è la trilogia. E sono tutti e tre. Insieme. Alexa, accendi cameretta. Grazie. È sempre distopico. Come diverso. Poi vabbò il diario di lettura. Hunger Games. Tutti e quattro. Ah, sono diversi però. Perché questo è il prequel. Il prequel. Poi c'è questo libro qui che è lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte. Dell'Einaudi. Che è un giallo. La canzone di Agile e il Kindle. Ah, il Kindle ce l'è là. Sì. Poi. Poi, mazza. Shadowhunters tutti e sei. Il cofanetto, bello. Sì, il cofanetto. Poi qui abbiamo Caraval che è un altro fantasy. Mh, l'e-pad. Qui abbiamo la luce. Ah, qui continua Shadowhunters. Altry Shadowhunters. Questo è il prequel e questo è il sequel. Di questo. Ah, ok. Dell'altro. L'angelo, il principe, la principessa. Invece il sequel è... Signore della mezzanotte, signore dell'ombra e regina della reddita. Quindi si inizia con questa. Si inizia con questa. Con questa che è la saga di mezzo. Che è la principale e la prima. Sì. Che ho letto pure io. Sì. Poi si continua con il prequel e poi il sequel. E poi il sequel. Ok. Andiamo subito giù. Ah, ma qui si deve rifiutare. Vabbè, The Promised Neverland è tutto qua. Pronto. Tutto quanto. Poi c'è un altro Harry Potter. Sì. Deve aver messo il Neverland. È bello. Sì, mi è piaciuto. Poi è un po' sbagliata. Poi, allora, tipo fino al volume 10. 12-13. Eh, sì. Tipo qui in mezzo è carino. Poi diventa ripetitivo e noioso. A tratti. Ottimo. Poi, la piantina. Libri random. Proprio a caso. Sì, libri un po' così. La fa per il cioccolato. Ce ne hai due versioni. Sì, quella nuova e quella vecchia. Interessante. Poi abbiamo... Altri topolini? Sì, questi sono i classici. No, sono i classici. No. Però non sono tutti fino al 14. Qua manca il 6. Poi lì c'hai Silente. Silente. E Pikachu. E Pikachu. Insieme. Andando giù. Quanti Harry Potter c'hai? Allora qui. Harry Potter. Qui qua e qua. Qui Zio Paperone e Paperino. Poi il 2. Ti devo ridare uno. Sì. Poi Kingdom Hearts. Crudelia. e Paper Fantasy. E poi c'è quella cosa strana. E poi questo. Che non ho mai letto. Ah no, non hai mai letto. No, me l'hai dato per leggerlo ma non l'ho letto. Poi. Poi. Questi sono altri libri random collegati a quelli sopra. Ah, un altro Silvern. Sì, anche questo è il mercatino. L'ho preso. Il mercatino è detto. Sì. Poi. Abbiamo. Ah, bello questo. Ah sì, quello lì l'ho letto. È bello. Bel libro. Ah, poi Paperinik. Paperinik. Non tutti però. E vabbè. Ce ne stanno tantissime sopra. Tipo fino al 62. Dal 35 al 62. E quella lì io credo che la conosco. Capita in Marvel. Ah, pensavo fosse la mamma. Ah, bene. No, capita in Marvel. Poi qua sotto. Poi qua sotto abbiamo tutti Zio Paperone. Due scaffali di Paperone. No, questo è Paperino. Ah, il Paperino. Però in realtà sono quelli che ti piacciono di più perché sopra ce ne stanno tantissimi. E qui ho anche l'uno di Zio Paperone. E alcuni anche io. Il primo primo. Sì, pure Marco ce l'ha. Ah, e là sotto ci sono i topolino. Sì, qui i topolino. Che sono alcuni sopra perché sono tantissimi. Sono anche lì dietro. Quindi questa è la collezione di Anna. Soprattutto libri. E mi ha promesso, mi ha promesso che parlerà anche di quei libri. Perché i miei sono interessanti. Molto. Vero? Sì. Quando ne parlerai? Tra un po'. Tra un po'. Ma con... Frena l'entusiasmo. Frena. Stai a frenare? Per fortuna. Ciao Marco, che ci fai qui? Lo sai che tua sorella non ti vuole in camera? Abbiamo fatto semplicemente un video prima. Ciao belli. Ciao. 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 Ciao.